Sì, abbiamo iniziato a collaborare, collaboravamo ovviamente con la nostra sezione sanità, una persona estremamente garbata, che ascoltava soprattutto di grande competenze, di grande professionalità. Ci ha colpito ovviamente sul piano umano, perché è stato un fungo in a ciel sereno, però certamente la Calabria, a mio avviso, perde una figura chiave in un settore dove sappiamo perfettamente c'è necessità di intervenire in maniera seria, in maniera decisa per risolvere una questione che dura da tanto tempo, che è il tema della sanità e sembrava finalmente essersi messa sulla giusta direzione. Speriamo adesso che da questo punto di vista si possa trovare una professionalità competente e all'altezza come il professore Profitti.